Ciao, sono Matteo Forte, co-founder e amministratore di Switch. Quante volte, usando il car sharing, vi è successo di raggiungere in 10 minuti la vostra destinazione e di aver impiegato più di 20 minuti per parcheggiare l'auto? Magari parcheggiandola anche maligno, diciamo. Dall'altro lato, con ogni probabilità c'era un utente che avrebbe tanto voluto noleggiare quella stessa auto, ma non poteva perché voi stavate cercando parcheggio. Switch mette in comunicazione chi sta guidando un veicolo in car sharing e con chi dall'altra parte ne ha bisogno, così chi guida risparmia tempo e denaro non dovendo cercare parcheggio e chi cerca un veicolo se lo ritrova consegnato dove gli serve e quando gli serve. Grazie a VIROS per l'opportunità.